E andiamo avanti con le nostre notizie. È stato presentato il Festival del Gusto che si terrà nel Centro Storico di Bolzano dal 2 al 5 giugno prossimo. Per la prima volta nella storia gli 11 prodotti di qualità dell'Alto Adige partecipano insieme a un festival. L'occasione sarà la prima edizione del Festival del Gusto organizzato dalla Camera di Commercio tramite LEOS e in programma nel Centro Storico di Bolzano dal 2 al 5 giugno prossimo e presentato in mattinata nella suggestiva sede di Palazzo Mercantile. LEOS è nata per riunire in un'unica organizzazione varie organizzazioni che si occupavano di marketing di prodotti ariotesini. LEOS le ha riunite queste organizzazioni in un'unica organizzazione e questo è un esempio di come queste sinergie stanno fruttando nel senso che organizziamo, facciamo una unica festa, una festa del gusto dove presentiamo lo spec, il latte, le mele e tutti i prodotti ariotesini insieme creando proprio sinergie, cioè facendo quindi partecipare del successo, del buon nome di alcuni dei prodotti anche ad altri prodotti. La mela Alto Adige IGP, il latte e i latticini avranno una propria casa piazzata in diversi punti della città vecchia oltre a una sessantina di mancarelle, mentre i vini Alto Adige e DOC si uniranno alla Kermesse nell'annuale mostra dei vini di Bolzano. Completeranno il pacchetto del gusto, pane e prodotti da forno, ortaggi, piccoli frutti, succhi di frutta, miele, grappa, piante ufficinali e aromatiche. E poi naturalmente sua maestà allo spec che si propone già come il prodotto che incontrerà il maggiore consenso del pubblico. Le eccellenze dell'attuale ci possono essere espresse soprattutto attraverso questo festival del gusto in cui lo spec penso che giocherà un ruolo centrale perché sappiamo che lo spec ha una conoscenza, ha una diffusione nazionale e internazionale. Noi ce la metteremo tutta per dare un grande contributo a questa festa. Ecco lo spec che sicuramente feste ce n'erano già abbastanza che lo celebravano, ritiene giusto mettere insieme lo spec che e anche altre produzioni Alto Adige? Ma anzi noi consideriamo che è veramente un'occasione ottima e noi dobbiamo venderci come Alto Adige e tutto quello che c'è dentro in questo contenitore Alto Adige lo dobbiamo promuovere insieme. Grande consenso ha trovato anche la collocazione temporale del festival del gusto. L'inizio di giugno dovrebbe infatti risultare periodo ottimo sia per i visitatori locali che per i turisti. Noi riteniamo un periodo molto valido in quel senso che c'è tanta gente della nostra popolazione, della nostra cittadinanza ancora sul posto così può anche festeggiare con noi tutti, vedere i nostri prodotti così facciamo anche sì che la gente nostra capisca che i nostri prodotti sono veramente ad altissima qualità tante volte molto migliori di tanti altri prodotti che forse stanno comprando. Dall'altra parte che è un periodo dove anche i turisti hanno tempo, già viaggiano e possono venire da noi. La manifestazione che probabilmente sarà a carattere biennale sarà arricchita dal miglio del gusto. In ogni angolo infatti ci sarà qualche evento cui assistere e qualche prodotto da assaggiare. Il miglio del gusto inizierà in piazza Municipio e si snoderà attraverso i portici fino a piazza Erbe per proseguire in via Ghete e nelle vie argentierie della mostra. In piazza Walter sarà collocato il palco principale per i concerti e lo show cooking con le esibizioni di chef Alto Tesini di assoluto rilievo.